Ciao a tutti e a tutte! Eccomi tornata con un nuovo video. Oggi sono qui con un video un po' particolare. Infatti ho aspettato a girarlo perché appunto volevo trovare delle parole giuste e delle parole che fossero precise ed appunto esatte per esporvi diciamo questo argomento al meglio. È importante che io ve ne parli per quanto riguarda la sopravvivenza e la protezione di questo canale che è nato da tanto e a cui io come sapete tengo molto e in cui settimanalmente pubblico video. Si tratta di una proposta che è stata presentata dalla Commissione Europea al Parlamento Europeo. Questa proposta pubblicherebbe le società internet a filtrare tutti i contenuti creati dagli utenti prima di essere caricati sui loro servizi. Tutto questo accade con la scusa diciamo della violazione del copyright. Questa proposta limiterebbe la libertà di espressione, di informazione e di parola a causa appunto di un eccessivo filtraggio dei contenuti che potrebbe portare all'eliminazione di queste piattaforme e per questo è stato appunto chiesto che questa legge chiamata articolo 13 ci venga declinata ovviamente è inutile dirvi che io sono d'accordo con chi declinerebbe questa proposta perché ci rimane molto male se il mio canale fosse costretto a chiudere e quindi ecco io vi invito appunto a firmare la petizione per fare in modo che questa legge diciamo non venga approvata perché vi ricordo che non è ancora stata approvata, è stata semplicemente presentata e noi possiamo fare in modo che questa proposta non passi firmando una petizione e appunto se siete d'accordo con me il mio canale come tanti altri canali deve continuare ad essere così aperto alla libertà di parola, alla libertà di espressione, alla libertà di informazione che deve essere un mezzo aperto dove si può condividere tutto quello che si vuole che voi volete abbattere questa piccola sbarra che si sta venendo a creare ultimamente quando disade diciamo e ansie in tutti i colori che diciamo si dilettano a creare settimanalmente contenuti o semplicemente video per far passare un po' di tempo in compagnia al loro pubblico io dico sia la petizione quanto questa legge mi raccomando firmate e salvate internet io ovviamente ho già firmato e condiviso questa petizione sui miei social perché per me è davvero importante e lascio anche a voi il link per poter votare contro e per fare in modo che possiate sostenere il mondo di youtube il mondo di internet concludo dicendo no, abbasso l'articolo 13 perché internet oltretutto è una grande forma di comunicazione che al giorno d'oggi ci consente di fare grandi progressi ci ha consentito più libertà di pensiero più opportunità di parlare e di condividere con il mondo diciamo le nostre opinioni e adesso che si è creato tutto questo bel mondo virtuale che come scoperto io negli anni può dare delle grandissime soddisfazioni non voglio assolutamente che tutto questo finisca non voglio assolutamente che tutto questo venga chiuso e quindi spero che non lo vogliate nemmeno voi e niente mettete un pollice in su per sostenermi se questo video vi è piaciuto vi lascio sotto il link per andare a firmare e mi raccomando firmate niente vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video ciao ciao